sezioni e compiti nel paragrafo sezioni e compiti del libro il lavoro dell'attore su se stesso di stanislaschi costia ricorda di quando fu invitato a pranzo a casa del famoso attore sustoff sio dell'amico e compagno di recitazione pasa quel giorno a casa di sustoff si serviva il tacchino in quell'occasione sustoff ricordò di quando aveva invitato a pranzo spondia il famoso maestro d'arte drammatica e anche quel giorno non a caso si serviva il tacchino spondia dal canto suo che non faceva altro che insegnare in qualsiasi momento del giorno anche quando mangiava paragonò quel grande e appetitoso tacchino al revisore una commedia in cinque atti in poche parole ecco spondia sostenne che come non si può mangiare un tacchino tutto in una volta ma bisogna suddividerlo nelle sue parti fondamentali e quindi in sezioni grandi vale a dire bisogna da prima staccare le ali poi le cosce e per ultimo tagliare il petto in più parti allo stesso modo non si può portare in scena una commedia complessa come il revisore se prima non è stata analizzata suddivisa nelle sue parti fondamentali vale a dire non è stata suddivisa ecco in sezioni l'insegnamento di spondia è questo il revisore così come qualsiasi altra commedia così come qualsiasi parte portata in scena deve essere sempre suddivisa in sezioni vale a dire in parti letteralmente in pezzi da russo kuski a ogni sezione quindi corrisponde una scena che significa che ogni scena ogni singola scena è una singola sezione ora ritornando all'esempio del tacchino se noi ecco mangiassimo un tacchino tutto in una volta senza primo senza prima averlo suddiviso nelle sue parti fondamentali e quindi senza prima aver staccato le ali le cosce e poi tagliato il petto finiremo per fare indigestione se non proprio per strozzarci insomma allo stesso modo se noi portiamo in scena un monologo una commedia senza prima averla analizzata suddivisa nelle sue parti fondamentali vale a dire suddivisa in sezioni sarebbe un fiasco totale una cozzaglia di parole di frasi buttate a caso questo sarebbe un recitare enfatico falso costia nel tragitto che fa da casa di sustoff a casa sua si diverte a contare sezioni e quindi egli dice letteralmente saluto i sustoff prima sezione scendo le scale seconda sezione afferro la maniglia della porta terza sezione stringo la maniglia quarta sezione apro la porta quinta sezione e e così via fino a quando non giunge la sera e deve andare a letto e ha contato più di 200 sezioni ma quante sezioni dice costia e quindi si interroga ecco se è possibile che una tragedia debba contare più di un migliaio di sezioni e poi come si fa a ricordarle tutte è impossibile e così egli si pone ecco un interrogativo interessante in quante sezioni bisognerebbe suddividere una commedia e rivolge la sua domanda ad arkady nikolivich tarkov direttore insegnante della scuola di recitazione che li frequenta tarkov sostiene che l'attore non deve preoccuparsi delle innumerevoli sezioni che naturalmente non si possono ricordare ma deve seguire la rotta e i punti salienti di quelli di quello che è il processo creativo ora la divisione di una commedia o di una parte in piccole sezioni è soltanto temporanea nel senso che le singole sezioni non possono rimanere a lungo slegate tra loro e tarkov sostiene per l'appunto che l'attore solo inizialmente deve lavorare su piccole sezioni successivamente quelle sezioni piccole vanno raccolte in sezioni grandi naturalmente più le sezioni sono grandi e meno saranno e in questo modo è più facile cogliere il senso profondo della commedia l'insieme ecco della della commedia e della parte che ci viene affidata ora tarkov sostiene che qualsiasi commedia per quanto complessa possa essere non sarà mai costituita da sezioni indipendenti cioè da sezioni slegate tra loro che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra assolutamente molte sezioni avranno in comune lo stesso tema mentre altre saranno più o meno simili alla fine ecco l'attore si troverà di fronte a pochissime sezioni grandi perché per l'appunto le sezioni piccole sono state raccolte in sezioni grandi e sarà più facile cogliere l'insieme della commedia praticamente le sezioni grandi funzionano da rotta per l'attore indicano la strada che noi dobbiamo seguire l'attore infatti non deve smarrirsi nel mare delle piccole sezioni ma deve seguire la rotta deve cogliere il significato profondo l'insieme della commedia e della parte che ci viene affidata che gli viene affidata fine della prima parte segue nel prossimo video la seconda parte